Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Luclus Games su YouTube e su quella piattaforma viola dovrò in live tutti i giorni da lunedì al venerdì, dal 19, sabato e domenica dalle 17 e oggi parliamo della Zamparini Challenge, una sfida condotta interamente in live su quella piattaforma viola. Quali sono quindi gli obiettivi di questa sfida? Beh, primo il mercato non potete farlo voi ma deve essere demandato, attenzione, al presidente del club, sì esatto, non il direttore sportivo, proprio il presidente che dovrà occuparsi di acquistare e cedere tutti i giocatori della squadra. Voi non potrete dire A, dovete accettare assolutamente quello che farà il vostro presidente, quindi magari sarete anche costretti a cambiare magari il corso d'opera durante la stagione anche la tattica in base a quelle che saranno le operazioni di mercato. Il rinnovo dei giocatori e anche dello staff invece potete anche farlo da voi, però se volete rendere la cosa più complicata potete eventualmente delegare anche quest'altro aspetto. Se avete dubbi su come funziona la DSMod vi ricordo che abbiamo fatto un video proprio ad hoc che spiega tutte le varianti della DSMod che esistono su FM. Punto numero due che va a caratterizzare completamente questa challenge e vi fa capire perché si chiama Zamparini Challenge. Dovete assolutamente perdere i due giocatori più importanti del vostro club ogni volta che si apre il mercato, quindi sia a gennaio sia dopo maggio, voi dovete individuare i due giocatori più rappresentativi. Quali sono questi parametri? Potete scegliere o il costo del cartellino oppure magari il numero di gol fatti oppure la media voto, sta a voi la scelta. Dati quindi questi paletti sul mercato l'obiettivo finale sarà vincere la Serie A entro quattro stagioni con una squadra neopromossa o al massimo che viene data per retrocedente. Basta in questo caso andare a valutare l'anteprima di stagione per capire quali squadre sono elegibili solamente nei top campionati. E partiamo proprio dalle info societarie dove possiamo notare ad esempio il kit rifatto per la Salernitana creato da Vince e da Giovanni, due ragazzi che mi seguono sia su quella piattaforma viola sia su YouTube e si occupano sempre di farmi le magliette di ogni squadra che porto. Possiamo anche notare un bellissimo sfondo al centro perché questa è la Vince Skin che vi permette di abilitare il pacchetto di città e anche gli stati. Allora chiaramente avete scaricato questi oggetti. Vediamolo quindi la Reiki, uno stadio che potremmo definire abbastanza giovane, fondato nel 1990, fondato, creato, eretto. Abbiamo quindi l'immaginetta da lì fuori e anche quella da lì dentro, anche se parliamoci chiaro questa è un'immagine un po' indecorosa. Questa invece è la quotazione che viene data alle squadre prima di iniziare la stagione con il mercato fatto direttamente come nella realtà. Poi sarà l'utente che già andando a fare qualche operazione potrebbe spostare un po' le anteprime che al momento ci danno come ultimi 2001 per quanto riguarda la nostra rosa che non è neanche tanto giovane, età media 27 anni. Dicevamo però a inizio video che il mercato sarà fatto dal presidente, quindi come si fa a impostare questo? Si va su staff, si va su responsabilità, si va su trasferimenti e contratti, dopodiché qua si clicca su imposta tutti, si va su delega tutto e noi andiamo a scegliere il presidente. Quindi Danilo Ierbolino si preoccuperà di fare gli acquisti dei giocatori, quindi sia portare avanti e tradire sia andare poi a firmare il contratto in maniera definitiva. Noi non potremo dire a questo discorso anche per le cessioni, quindi andiamo un'altra volta su delega tutto e clicchiamo sempre su Danilo Ierbolino. Per quanto riguarda le giovanili, inizialmente per puro sfizio abbiamo delegato tutto al direttore sportivo, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni, cosa che poi abbiamo torto perché non era un paletto diciamo di questa challenge, ma volevo vedere se il direttore sportivo ragionava bene sui giocatori giovani e come vedrete non ragionerà bene ed è per questo che poi andremo a togliere questa delega. Noi abbiamo a che fare con una squadra veramente ricca di ruoli, abbiamo tanti difensori centrali, tanti terzini, tanti centrocampisti centrali, tante punte, qualche giocatore anche sulle fasce, anche se mi sarei aspettato qualcosina in più a livello numerico e quindi potremmo giocare con difesa a 3, difesa a 4, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 3, 5, 2, insomma possiamo veramente in qualche modo sbizzarrirci. Questo però soprattutto per il primo anno perché se noi andiamo a vedere poi andando sul filtra e togliendo quelli che sono i prestiti di questa prima stagione notiamo come il numero crolla letteralmente perché ci sono ben 15 prestiti. Se poi teniamo conto che tra questi giocatori di proprietà della Sanitana ci sono esseri diciamo che sono più in là che in qua per quanto riguarda giocare a pallone, non lo so, prendiamo Federico Fazio, se in accelerazione questo con me non giocherebbe mai io lo metterò in disparte e poi si spera che il presidente capisca anche se fatico a pensare che qualcuno possa realmente andarlo a comprare considerando poi, non lo so, lo stipendio 4, 6 milioni Federico Fazio, ma siamo seri, in una squadra come la Sanitana si può permettere realmente un giocatore con questo stipendio così esuoso? Queste sono le finanze almeno al Day One, al 19 luglio 2021 per la Sanitana, il bilancio piange, 4 milioni e 6 torniamo però a parlare dei prestiti di questa Sanitana perché c'è davvero tanto da dire per esempio i tre giocatori con PA più alto di questo club guarda caso sono in prestito Mamadou Koulibaly è uno di questi, volendo potrebbe anche essere riscattato per circa 11 milioni ma fatico a credere che la società troverà questi soldi entro la fine della stagione un secondo giocatore con PA molto alto è Matteo Ruggeri qua si parla di un possibile riscatto di 6 milioni che non sarebbe neanche tanto però bisogna vedere se la società ha la forza di riscattare questo ragazzo e poi ci sta un altro elemento ancora con PA alto che viene da Juventus Dragusin, giocatore che ha una particolarità rispetto agli altri ovvero è un prestito secco, quindi senza opzione di acquisto ma è un prestito biennale, sono veramente diversi i giocatori che potrebbero essere riscattati dei prestiti per esempio Sepe per circa 3 milioni un portiere che potrebbe dare una mano almeno nella primissima stagione Jarosinski per solo il 700k potrebbe essere un discreto braccetto perché sì, non ha più grandissima accelerazione e velocità andando avanti c'è anche Emil, questo potrebbe essere anche intrigante perché è molto giovane però il riscatto è fissato a 4 milioni e 2 un po' troppo, è decisamente più fattibile il discorso legato a Mikael la punta brasiliana, 2 milioni e 7 e infine c'è il caso Bonazzoli che deve essere per forza riscattato per 4 e mezzo se la squadra riesce a evitare la retrocessione anche se poi ci sta un possibile contro riscatto fissato a 5 e mezzo per la Samp qualora poi il presidente fosse abbastanza furbo ma chiavellico, oserei dire, c'erano ben 3 giocatori che vanno a costo zero con i loro rispettivi club che sono però prestiti qui alla Serenitana quindi si potrebbero prendere già al 31 dicembre l'Ismus è, ma fatico a credere che ce lo regaleranno questo ragazzo altro elemento che va in scadenza è il mitico Filippo De Licari e poi ci sarebbe anche Castanos altro giocatore che verrebbe dalla Juventus in questo caso ci sarebbe anche un costo opzionale di circa 4 milioni ma perché pagarlo se non lo rinnovano si potrebbe prendere a gratis terminata quindi la presentazione iniziale del club non ci resta che far partire ufficialmente questa challenge siamo a gennaio 2022 nel corso di questo video noi ci bloccheremo per ogni stagione in due momenti ben precisi gennaio e dopo maggio perché è lì che vanno individuati i due giocatori che ogni volta vanno messi sul mercato per rendere la sfida molto più complicata e ricordare anche un po' buonariamente il presidente Zamparini che ogni tanto insomma prendeva delle decisioni sul mercato quindi i due giocatori che noi faremo partire in questa prima parte di questo primo anno perché siamo a gennaio 2022 sono Ederson e Gaiolo che dato il parametro del prezzo sono i giocatori che valgono di più ovviamente non possiamo allontanare i giocatori in prestito perché non sono di nostra proprietà la classifica la vedremo sempre alla fine di ogni stagione quindi non a livello intermedio ma possiamo già fare un piccolo spoiler siamo già fuori dalla Coppa Italia siamo usciti contro il Monza al primo d'uno il 14 di agosto non promette benissimo questa sfida date le risorse umane a nostra disposizione decido insieme alla chat di creare un modulo con difesa A3 elaboriamo il 3-4-2-1 di Gasperini quindi con due braccetti difensivi con al centro il difensore che imposta in copertura tessino rotificante a destra esterno invertito a sinistra con CC in supporto insieme a registra retrato COC ADS e davanti l'uomo d'aria mentalità positiva queste le istruzioni in fase di possesso queste le istruzioni in fase di transizione queste le istruzioni in fase di non possesso maggio 2022 se conclude anche la seconda parte di questa primissima stagione dovremmo già individuare i prossimi due giocatori da mettere sul mercato ma bisogna anche sottolineare che in realtà i due giocatori che dobbiamo vendere entro gennaio purtroppo sono ancora in under 20 perché non siamo riusciti a piazzarli sul mercato Ederson e Gagliolo hanno fatto mesi e mesi di stipendio a gratis qual è la difficoltà a piazzare questi giocatori sul mercato? Beh, sul Football Manager c'è una consuetudine quando un giocatore firma per un club per i prossimi sei mesi ovviamente sarà complicato provare a venderlo ma possiamo estenderlo anche per l'intero anno perché il giocatore quando va a firmare per quel club ovviamente prende un impegno se tu lo rimpiazzi sul mercato vai un po' contro la fiducia che lui ha riposto in te e quindi possono anche impuntarsi e rifiutare offerte anche allettanti proprio perché insomma non ritengono giusto il fatto che voi li mettete in vendita La Salernitana purtroppo è piena di giocatori che o sono in prestito o sono arrivati a luglio 2021 da poco quindi purtroppo proprio con la Salernitana non era proprio l'ideale far partire questa challenge perché rende la cosa molto più complicata perché poi i liquidi arrivano sempre in ritardo devono passare un po' di mesi ma questi ragazzi insomma decidono di accettare la cessione Quali sono quindi gli altri due giocatori che adesso metteremo sul mercato? Beh, gli Humber e anche Kulibaly perché sono i due elementi che costano di più rispetto agli altri della rosa 31 UiU 2022 è addirittura iniziata anche la seconda stagione infatti qui c'è già un primo bilancio che non andremo a verificare ci concentriamo ancora sulla 21-22 per capire come è terminata mettendo da parte le operazioni che aveva fatto chiaramente la dirigenza prima che arrivassimo noi quindi abbiamo semplicemente una spesa di 4,6 sotto la nostra direzione con Bonazzoli che è stato acquistato perché era un acquisto obbligatorio visto che era scattato chiaramente il paletto che portava a pagare questi 4,5 milioni alla Samp è arrivato anche l'ultimo giorno del mercato di gennaio Filippo Romagna per appena 84 mila euro non è sicuramente un fenomeno ma può fare la riserva in serie A anche se secondo me è più adatto alla serie B mentre per quanto riguarda le eccessioni questo ragazzo è andato al Pumas per circa 400k e poi abbiamo anche Gjomber che siamo già stati in grado di venderlo al West Bromwich Albion per appena un milione quindi il giocatore da vendere in estate 2022 è già venduto addirittura ci siamo addirittura qualificati per la Conference League arrivando in settima posizione eppure ci davano perspacciati e avete visto con quante difficoltà sul mercato abbiamo raggiunto questo grande traguardo eppure io ho paura per la stagione numero 2 perché ora perderemo un sacco di giocatori che erano in prestito marzo 2023 si conclude anche la prima parte della seconda stagione vediamo fin qui quali sono le operazioni di mercato che sono state condotte vediamo subito che sono stati incassati appena 5 e mezzo ma ne sono stati spesi 24 di milioni com'è possibile questo vi ricordo che il mercato non lo facevo io ma lo faceva il presidente che effettivamente si è mosso anche bene sul mercato come vedremo ma vi ricordo anche anche che eravamo una ex signor promossa ma che si è qualificata in conference liquid ci stavano i soldi dei premi anche della classifica e soprattutto il monte in gaggi inferiore ai diritti tv per esempio è presente questa differenza tra diritti tv e monte in gaggi perché vi fa capire se una squadra genererà di mese in mese un profitto o una perdita Manuel Lanzini giocatore argentino prelevato dal West Ham la scheda è molto importante per una squadra come la nostra però il contratto forse è un po' troppo alto questo discorso anche per Dennis Pratt sulla carta cartellino veramente stra pagato poco ma giocatore anche qui che prende 3 milioni e 7 ma che può darci anche un modo diverso di giocare visto quando i giocatori vengono presi da tre quarti soprattutto laterale se pensiamo anche a Daniel Podenz che ha 16 in accelerazione 16 in velocità 17 in dribbling e poi anche Van Hoidon mi ha stupito letteralmente giocatore che è forte non solo sui cacci piazzati ma forte anche di testa ed è un giocatore che potrebbe anche costruire le giocate come punta aggiunta oltre che come ennesimo giocatore da tre quarti poi Fabrizio Diaz elemento che se date la DSMOD al vostro team spesso e volentieri vi comprano così come con SESAO perché si comprano a pochi soldi e hanno un PA davvero molto elevato quindi comprateli se potete nelle vostre carriere perché sono veramente giocatori che rendono tantissimo nella prima stagione tre pali avevamo sepe che era in prestito non viene riscattato e arriva questo ragazzo svedese si poteva fare però decisamente di più per una squadra di serie A dopodiché abbiamo il punto veramente più basso di questa DSMOD ovvero Emmanuel Ercolano vi ricorderete come avevamo dato al direttore sportivo la facoltà di comprare giocatori per le giovanili ecco è dopo questa operazione qui che io vado a togliere questa mansione perché guardate quanto è scarso e guardate quando viene pagato 500k che potrebbero diventare un milione e mezzo e non ha assolutamente un PA devastante prezzi molto più contenuti per Mattias Jensen dal Brentford sicuramente non un fenomeno ma sa utilizzare perlomeno entrambi i piedi come si vuol dire a stuprez va benissimo uguale stesso discorso per Roland argentino poi abbiamo dei colpacci veramente incredibili come Castanos e Delicardi dalla Juventus prelevati a costo zero sì non saranno dei wonderkid per carità ma vi ricordate che su Castanos ci stava un possibile costo opzionale e furbescamente invece il nostro presidente aspetta che il ragazzo va in scadenza e poi se lo prende a costo zero fa la stava operazione anche con Stefano Densuil del Bologna e anche con Lucas Rupp dal Norwich poi abbiamo anche tre prestiti veri e propri con Riccardo Rodriguez dal Torino decisamente interessante anche Mattia Gabbia preso dal Milan in prestito così come per Silviza che non conoscevo minimamente il bello di questa challenge è stato anche arrivare a nomi che non avevo minimamente idea che esistessero non è sicuramente un wonderkid ma è un giocatore giovane donato di grande accelerazione e velocità passando invece alle cessioni devo dire che mi rammarico dell'addio di Simi avrei voluto lavorarci su la scheda era decisamente interessante e va via a Rapid Vienna per appena 3 milioni riusciamo a vendere Kulibaly che era un giocatore da vendere per forza così come Gaiolo vanno via anche Fiorillo e Orlando insieme a Radovanovic e altri elementi minori i due giocatori che avremmo dovuto vendere a gennaio purtroppo non siamo riusciti a piazzare sul mercato quindi sono rimasti come bene inutilizzato nell'under 20 rendendo la sfida molto più complicata perché avremmo potuto avere dei liquidi da reinvestire i ragazzi sono Lanzini che era appena arrivato in estate come avete appena visto si sapevamo che è difficile vendere un giocatore dopo 6 mesi volevamo la ulteriore controprova si era veramente distinto il ragazzo aveva giocato benissimo in campionato e poi però nessuno lo ha voluto quindi grazie purtroppo anche a quell'ingaggio molto alto resta nell'under 20 Federico Bonazzoli uno direbbe ma come questo era già il secondo anno che stava da te attenzione più umano lo fa da noi sì ma in presido quindi quando va poi a materializzarsi la spesa dei 4-1 e mezzo per comprare il cartellino di fatto parte una nuova avventura per Bonazzoli anche se sempre nello stesso team questo per sottolineare che questo aspetto va però modificato perché Bonazzoli poi si è impuntato non ha voluto sentirne delle attroffette che sono arrivate e quindi anche lui purtroppo fa la fine di Ederson che come vedete ancora non è stato venduto a più di un anno che è stato messo sul mercato ha rifiutato di tutto pur di non venirmi incontro ed essere ceduto probabilmente vuole provare a scappare a costo zero giugno 2023 si conclude anche la seconda stagione nella propria parte abbiamo giocato con un 4-2-4 poi abbiamo perso Lanzini e Bonazzoli quindi abbiamo ripiegato su questo interessantissimo e curiosissimo 4-3-2-1 con Banoidonk davanti dietro Pratt e Podenza e in base al valore di mercato decidiamo di vendere quindi Castanos e Pratt al termine di questa seconda stagione poi vedremo se riusciamo a piazzarli e anche con che cifra ma vorrei sottolineare anche i 35 gol e i 9 assist del signor Banoidonk arriviamo addirittura in seconda posizione ma questa è una classifica che andrebbe assolutamente prima contestualizzata perché sembrerebbe quasi una stagione dominata e invece non è così perché fino alle ultime 4-5 giornate eravamo quinti potremmo finire infatti anche in Europa League se ci fate il caso siamo molto vicine anche alla Roma siamo stati fortunati o sfortunati perché l'anno prossimo si prenderemo tanti soldi per partecipare in Champions ma non siamo minimamente attrezzati per questo tipo di competizione ma nelle due coppe quest'anno cosa abbiamo fatto? in Coppa Nazionale malissimo usciamo già ai quarti contro l'Inter va leggermente meglio in Conference perché riusciamo a qualificarci contro il Botev poi finiamo nel gruppo C Collegia Varsavia Sparta Praga e questo team che non mi azzardo neanche a pronunciare perché sarebbe sicuramente una parolaccia quella che potrebbe uscire fuori quindi vado direttamente a parlare della sfida con lo Stubgraz vi ricorderete che nell'anno del mondiale alcune coppe vi fanno fare semplicemente una sfida secca questo per esempio è il caso di questa competizione meno male che abbiamo saltato diciamo la fase 1 eliminazione diretta se no rischiamo magari di giocare fuori casa e perdere subito in quella situazione poi andiamo ai quarti di finale dove ci becchiamo il Lille squadra temibile francese ma superiamo agilmente sia l'andata che al ritorno poi l'Herta Berlino in semifinale male l'andata meglio al ritorno ma in finale in finale becchiamo il Vittoria di Guimaresce una squadra portoghese quindi sicuramente siamo stati fortunati se pensiamo a quella che è quest'anno la finale di Conference tra Roma e Feyenoord ma siamo ancora di più fortunati perché segniamo il primo gol super inattiva o meglio non lo facciamo neanche noi e autogol dell'avversario di Fernandez e poi il secondo gol arriva su una seconda super inattiva su rigore dove Van Hoidong firma la sua 35esima rete stagionale diamo anche uno sguardo al bilancio della seconda stagione per capire un po' cosa è successo in questi due anni il bilancio è di 25 milioni al 10 giugno 2023 abbiamo 17 milioni per i trasferimenti ancora non abbiamo fatto operazioni di mercato per la stagione numero 2 il monte in Gaggi è salito a 42 milioni quindi sono ancora molto bassi considerando che saremo impegnati in Champions League potremmo fare veramente tanti soldini marzo 2024 si conclude la prima parte della terza stagione ed è stato fin qui un mercato pirotecnico anche se obiettivamente sono più i soldi incassati rispetto a quelli spesi nonostante la partecipazione alla Champions mi si raspe diversamente ma attenzione abbiamo fatto o meglio il presidente ha fatto degli acquisti veramente allucinanti pensiamo per esempio a Toven che con i bonus annessi potrebbe costare 10 milioni ma guardate che scheda potrebbe essere utile anche per un club che vuole vincere lo scudetto stesso discorso anche per Sorlot per non parlare poi di Seyvald pagato 6 milioni ne vale già secondo la dirigenza 40-50 già dovrei crescere benissimo vi straconsiglio poi abbiamo questo ragazzo che potrebbe fare il rincazzo in Serie A ma noi lo avremmo utilizzato come titolare Beli giocatore privato per meno di 5 milioni dal Manchester li vale assolutamente tutti è stato assolutamente un acquistone anche per Italia per 2-3 milioni poi ancora Diurcici invece qui si poteva tranquillamente evitare l'acquisto 32 anni giocatore già in là ma non una scheda utilissima insomma il presidente ha voluto darci anche questo per meno di 2 milioni anche Zortea e anche Demir Bay che si ha 30 anni ma tecnicamente ancora può dire la sua anche in Serie A poi Mario Rui questo fa sempre comodo ovviamente per meno di 2 milioni e poi un portiere che serve per fare la riserva certo la cosa assurda è che abbiamo ancora uno svedese titolare in porta e non è sicuramente un gran portiere dopodiché qui si nota veramente come funziona la DS Mod guardate con se sa ho prelevato come presido ma a costo futuro obbligatorio di 8 milioni vi rendete conto che la DS Mod funziona veramente alla grande fa le date fa i presidi fa i presidi con opzione o con obbligo di acquisto insomma si comporta veramente in maniera deliziosa non mi sarei mai aspettato che però la DS Mod funzionasse così bene con il presidente e non con l'editorio sportivo che teoricamente dovrebbe essere più utile a Issamandi poi prelevato da Villareal come terzino di destra anche questo veramente un bel colpaccio passando invece alle cessioni possiamo subito sottolineare la vendita finalmente di Ederson dopo due anni per meno di 3 milioni l'avessimo venduto subito probabilmente avremmo ottenuto una cifra quadrupla poi abbiamo venduto anche Lanzini e Bonazzoli che dovevano essere venduti a gennaio 2023 dopodiché Pratt e Castanos che erano operazioni da fare dopo giugno 2023 sono state fatte quest'anno e poi trovate anche il primo dei due giocatori che dovevano essere venduti entro gennaio 2024 subito venduto Podenz per una cifra che potrebbe arrivare a 17 milioni l'atto giocatore che però non siamo riusciti a cedere già a gennaio è Diaz quindi lui dovrà essere venduto poi insomma a giugno per questa terza stagione abbiamo cambiato ulteriormente modulo questa chiaramente è una cosa che può succedere quando lasci fare il mercato non a te stesso ma a un elemento terzo e quindi abbiamo giocato con Sorlot punta con De Sao e Toven laterali Demir Bay Saivald e Jensen a centrocampo Bely Gabbia coppia di centrali Zortea ma lui come terzini e poi il portiere scarsone tra i pali diamo uno sguardo anche a qualche statistica di questa stagione mediavoto più alta per il terzino sinistro Melig con 750 ma addirittura 21 assist sono veramente tantissimi mentre il goleador questa volta è stato perso in Zamanoydog si è fermato appena a 23 gol cosa abbiamo combinato in questa stagione beh partiamo dalla Coppa Italia siamo arrivati in finale dopo aver battuto a Fiorentina Inter Lazio due volte e in finale con la vecchia signora abbiamo vinto 2 a 0 nonostante le espulsioni all'ottantaduesimo di Eric Bely in Champions League è stato un disastro doppia sconfitta con Real Madrid sconfitta fuori casa pesante con il Liverpool ma in virtù del pareggio con il Liverpool in casa e dei 4 punti fatti con la scuola greca perlomeno siamo finiti in Europa League e in questa competizione dopo aver battuto il Nizza il Trabonspor il Lione e il Leicester siamo finiti in finale contro il Borussia Dortmund questa finale parte veramente malissimo su rigore neanche in prima battuta ma in seconda battuta passa in vantaggio il Dortmund con il Signor Mane che a me fa sempre gol è una cosa veramente incredibile una sentenza poi il pareggio su questo sviluppo di rimessa laterale con il portiere lontano dalla linea di porta Van Oudonk ne approfitta e si fa l'1 a 1 addirittura possiamo passare in vantaggio questa sgaloppata di Mandi sull'auti destra che mette poi una palla bassa per Persi Liza che va a fare il gol del 2 a 1 mancano pochi minuti siamo all'ottantottesimo in questo momento e stiamo vincendo 2 a 1 ma non abbiamo fatto i conti con il Dortmund perché qui a 94esimo e 30 secondi perdiamo parla e parte la controoffensiva ancora con il Signor Malen che riesce a fare il 2 a 2 poi scatta la lotteria dei rigori di solito ai rigori non vinco sono molto sfortunato agli 11 metri eppure qui accade qualcosa di particolare sbaglia proprio l'uomo che non ti aspetti ovvero Malen dal dischetto e questo potrebbe essere un segnale positivo per noi perché poi sbaglia anche Brand e infatti i primi 4 rigori noi insegniamo tutti e ci portiamo a casa l'Europa League e alla fine vinciamo anche il campionato con 78 punti 2 punti in più rispetto alla seconda in classifica che clamorosamente è la Fiorentina ma la partita decisiva per questo scudetto è questa qui cosa è successo contro il Verona siamo passati in vantaggio al diciottesimo dopodiché ha segnato il Verona addirittura poi si è portata in vantaggio dopo il pareggio di Van Hoidong al quarantunesimo il nulla più totale solo va anche di cartellini per il nostro team quando poi a un certo punto guardate chi riesce a sbloccare questa sfida l'uomo che non si aspettava nessuno tranne il sottoscritto che ci ha creduto sin dal primo minuto l'urlo del Sium non poteva che farlo lui che riesce a saltare meglio di CR7 e non poteva che essere Filippo Delicarri si conclude quindi qui il video sulla Zamprini Challenge fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto al video ma vi ricordo che mi trovate sempre tutti i giorni in live su quella piattaforma viola donna e dì al venerdì dalle 19 sabato e domenica dalle 17 buon sabore